Il campeggio barcoreale di Lamporecchio, eccellenza dell'area del Montalbano, ha spento 35 candeline festeggiando a casa sua, sfruttando l'incredibile panorama che il posto offre. Un'eccellenza della provincia di Pistoia che accoglie ogni anno migliaia di turisti e che offre un'esperienza di campeggio di alto livello ai propri ospiti, grazie anche alla piscina, aree per lo sport, ristorazione, trekking, musica, animazione e altri servizi che rendono il soggiorno spettacolare sia per i turisti stranieri che per quelli italiani. Quando questo campeggio fu fatto si pensava a turisti che venivano con la tenda per visitare la Toscana più che per vivere la struttura, invece oggi siamo diventati praticamente un villaggio turistico, siamo rimasti a campeggio e vogliamo continuare ad esserlo, però i servizi sono più vicini a quelli di un villaggio turistico che a quelli di un campeggio tradizionale. In alta stagione la nostra capienza massima è fra 1100 persone, ospiti, 1100-1150 ospiti per circa 60.000 presenze annuali. Abbiamo un'occupazione molto lunga, addirittura in alta stagione 12 giorni. Baco Reale ha fatto moltissimo negli ultimi anni, hanno costruito delle cose meravigliose, molto particolari e in bilancio, ha bilanciato con la natura, tutto che hanno fatto è proprio messo benissimo nei suoi dintorni. Danno un'occhiata particolare sull'ecologia e all'ospite. Sono molto autentici e molto familiari.